Oggi nella giornata mondiale degli animali io sono contenta che in plenaria si possa discutere questa interrogazione orale soprattutto perché puntiamo il faro su quegli animali che troppo spesso vengono dimenticati e che invece meritano tutta la nostra attenzione. Il problema oggi è grave ed è giusto parlarne perché sono sempre più numerose infatti le indagini, le testimonianze che ci danno la misura di quanto gli allevamenti intensivi dei polli da carne siano un business del tutto insostenibile. Gli animali sono alimentati forzosamente e crescono strutturalmente deboli al solo scopo di produrre carne di bassa qualità venduta a basso prezzo. Animali tenuti in gran numero, in spazi estremamente ridotti, in condizioni terrificanti, dove malattie animali e zoonosi si diffondono con facilità estrema. Purtroppo le ricette che l'allevamento industriale utilizza in queste situazioni sono del tutto sbagliate. Agire sui polli per scongiurare l'insorgere di focolai di malattie tramite l'uso preventivo e sistematico di antibiotici non può essere una risposta adeguata. Non lo può essere perché non fa altro che aggravare il fenomeno dell'antibiotico resistenza, tanto negli animali quanto negli esseri umani. Un fenomeno che oggi costituisce l'emergenza più pressante per la salute pubblica in Europa. Io vorrei sottolineare a questo proposito, come è stato ricordato, che il Parlamento si è espresso con una relazione a settembre, la relazione della collega Kadenbach. Per questo ritengo che il settore debba essere richiamato alle proprie responsabilità e che la trasformazione dell'allevamento sia più che mai necessaria in Unione Europea ed in Italia in particolare. Il mio Paese è il secondo per l'uso di antibiotici negli allevamenti, con oltre 1300 tonnellate all'anno, una cifra impressionante che tuttavia potrebbe essere drasticamente ridotta se decisessimo finalmente di far prevalere un altro modello di produzione e di consumo di carne. Un modello basato sulle buone pratiche di allevamento e sull'applicazione di misure di biosicurezza rigorose. Ma non solo. Per ridurre l'uso dei medicinali e il notevole impatto ambientale dell'allevamento industriale e di polli da carne, e abbiamo ricordato le emissioni di ammoniaca sono un problema enorme, può giocare un ruolo importante la scelta di abbandonare l'uso delle gabbie. Ed è per questo che io chiedo ai colleghi qui presenti di sottoscrivere l'Ice e l'iniziativa End the Cage Age e alla Commissione chiedo di prestare ascolto, di iniziare a mettersi in ascolto a quei tanti cittadini che si stanno già mobilitando a favore di questa grande battaglia di civiltà. Grazie.